ciao a tutti benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video oggi sono qui con la base già fatta perché vorrei concentrarmi sugli occhi vorrei utilizzare questa palette e pensavo di utilizzare il nero di questa palette pensavo di utilizzare questo colore qui il nero tutta la valpebra e di andare poi a ricoprire il tutto con questo ombretto liquido che ho sguocciato qui non ciò vedere ok allora entrare questo è il prano questo è il prano non lo so se questo è il prano ciao come colore di transizione utilizzo questo questo qui un po' preoccupate del fallout? abbastanza però io lo vado a picchiettare non lo sfumo così vediamo di sfumarlo su tutta la base grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per evitare di sporcare l'applicatore con il nero, che poi è finita, lo sto applicando sulla mano con l'applicatore, cioè lo prendo con l'applicatore dal suo pack. Lo applico sulla mano e poi con un pennellino mi sto aiutando a fare i dettagli. Grazie a tutti. La sfumatura è anche sul viola. In base a come gli arriva la luce, sul viola, azzurro, blu. Si va, no, forza. La luce di questi ombretti liquidi è qualcosa di eccezionale. Non hanno bisogno di colla per glitter. E onestamente per il prezzo che hanno, cioè ne vale la pena. Si riesce a fare tutto un look applicando solo l'ombretto liquido. Non c'è bisogno di colla per glitter. Sono proprio bagnati. Quando lo applicate sull'occhio, quando lo applico sull'occhio, proprio sento che è bagnato e poi piano piano si asciuga. Questo all'interno dell'occhio, come punto luce, è il colore puro dell'ombretto liquido. Chi ha una base trasparente e poi tutti i glitterini con varie sfumature. Vado a completare gli occhi e ritorno. Trucco occhi completato. E allora adesso proviamo a fare un veloce regalco. Un riapilolo, si dice. Allora, la palette che ho utilizzato è questa di Weibo Neutral Eyeshadow Palette. E allora io devo dire che ogni volta che ho necessità di utilizzare il nero, ricordo sempre a questo palette. perché è un nero scrivente, non fa macchia, fa pochissimo fallout. Mi trovo bene con questo colore, con questo naro. Quindi i colori, diciamo, della palette, vi faccio rivedere, sono questi. E questo naro è fantastico. Si può trovare su Pink Panda. Credo ancora. Io l'ho acquistata lì. Poi questo ombretto liquido è eccezionale. Questo e tutti gli altri. Questo l'ho comprato su Focalure, che è uno shop che rivende attraverso Aliexpress. I prezzi sono veramente bassi, ma i prodotti sono ottimi. Poi ho completato mettendo il mascara di Catrice, che ho provato l'ultima volta, nell'ultimo video, come base. Ho poi aggiunto il secondo mascara, che è questo qua di sopra, dopo l'ho prima passata, diciamo. Ho utilizzato l'eyeliner semplicemente all'interno, diciamo sul punto luce, proprio per definire un pochino meglio l'occhio. E nella rima superiore interna, dentro l'occhio. E siccome tutti i rossetti, lipstick, qualunque tipo di cosa io vado ad applicare, lucido, di luce, proprio, sulle labbra, non si sa per quale motivo diventa poi, tende a diventare rosa, fucsia. Anche se sono a valori caldi e nude, marroncini. Ho pensato, stavolta, di applicare, vediamo se lo trovo, il color corrector che io utilizzo per le occhiaie di Kiko. Che è questo, ormai è, cioè, proprio una battaglia. Così? Ok. Ho pensato di applicarlo, l'ho provato stavolta per la prima volta, ho pensato di applicarlo sulle labbra, prima di andare a mettere il rossetto, che è sempre questo qui, di Kiko. Ho trovato, quasi, non so se ve lo faccio, non so se ci siamo, non ci siamo. Ho trovato nel calendario dell'avvento di Kiko, di quest'anno, se il colore è questo. Si vede che è stato utilizzato, si è piccolino. E' cream to powder, cioè, è cremoso all'applicazione e poi piano piano si asciuga e resta lì. Quindi ho pensato di applicare sotto il color corrector arancione e ancora sta tenendo il suo marroncino. Speriamo, dico, è una prova che ho fatto, vi farò sapere voi. Fatemi sapere se voi conoscete i prodotti, gli ombretti liquidi di Focalure. Io li ho tutti, poi magari qualche altro video ne proviamo, qualche altro senza, perché questo ha base trasparente, ma per esempio ne prendo uno, uno, due, blu, non lo so. Per esempio questi hanno base, hanno una base colorata. Questo ha una base colorata, questo no, non ha una base, credo, non me lo ricordo, devo dire. Però ecco, per esempio, questo ha una base colorata, questo anche, quindi si può effettivamente eseguire, cioè creare un trucco, un look occhi esclusivamente applicando questo ombretto liquido. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se li conoscete anche la palette, perché questa palette non l'ho acquistata, non l'ho acquistata, questa palette l'ho ricevuta facendo un acquisto sul sito di Pink Panda in una mystery bag, se non ricordo male. Comunque, lì ci dovrebbe essere. Fatemi sapere che cosa ne pensate del, sia dell'ombretto liquido che del, di quello qua. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domenica prossima alle 13.30 e probabilmente il giovedì con un video piccolo, una short. Ciao a tutti!